The Amazing Spider-Man Peter Parker vive a New York con gli zii che lo amano come un figlio. La zia May è tanto affettuosa e lo zio Ben dà sempre buoni consigli. A scuola è uno studente modello e la sua materia preferita è scienze. Gli insegnanti sono fieri di lui e questo attira l'invidia dei compagni. Un bullo di nome Flash si diverte a prendere in giro Peter davanti a tutti è un comportamento crudele che lo fa veramente arrabbiare. Per calmarsi il ragazzo va al laboratorio di scienze e assiste a un esperimento sui raggi radioattivi. Che emozione vedere gli scienziati al lavoro! All'improvviso un ragno finisce tra i raggi radioattivi e rimbalza sul dorso della mano di Peter. Ai! Il morso dell'animale è molto doloroso! Peter si sente debole e gli gira la testa. Gli scienziati cercano di aiutarlo, ma il ragazzo ha bisogno di respirare aria fiesca e esce dal laboratorio. In strada avverte una strana sensazione di prurito, poi pian piano riprende forza, ma ha un'improvvisa voglia di muoversi e saltare sui muri. La cosa incredibile è che Peter davvero può arrampicarsi come un ragno fino al tetto di una casa e da lì salta da un edificio all'altro. Per scendere il ragazzo cammina addirittura su un filo. A terra si dà un pizzicotto, ma non è un sogno. Il ragno colpito dalle radiazioni gli ha trasmesso i suoi poteri. Incuriosito da una locandina che raffigura un incontro di wrestling, Peter decide di mettere alla prova la sua forza e sale sul ring. Per non farsi riconoscere, si maschera e sfida l'enorme Crusher Hogan. Il lottatore scoppia a ridere, ma il ragazzo lo stende subito al tappeto. Quella sera a casa gli zii regalano al nipote un microscopio. Il giovane è contento e lavora tutta la notte per creare un fluido resistente come la tela di un ragno, un lancia ragnatele e un costume nuovo. È nato l'uomo ragno. Ora l'uomo ragno è una star televisiva. Durante la pausa di un suo spettacolo un ladro gli passa accanto, inseguito da una guardia. Ma Peter non usa i suoi superpoteri per catturarlo, perché preferisce godersi il successo e rilasciare interviste ai giornalisti. Una sera, di ritorno da una trasmissione in tv, Peter è accolto da una brutta sorpresa. Alcune auto della polizia sono ferme davanti a casa sua. Un criminale ha sparato allo zio Ben ed è fuggito nel vecchio magazzino davanti al porto. Peter corre in camera e si infila il costume da uomo ragno. Il supereroe si lancia sopra la città. Vuole raggiungere il magazzino prima dell'arrivo della polizia per vendicare suo zio. Il furfante è stupito di vedere l'uomo ragno piombarli addosso dall'alto, ma più grande è la sorpresa di Peter quando riconosce il ladro. È lo stesso malvivente che aveva lasciato fuggire nel corridoio dello studio televisivo, se solo l'avesse fermato allora. Con un balzo l'uomo ragno si scaglia contro il bandito e lo atterra con un pugno. Quel farabutto non farà più del male a nessuno. L'uomo ragno avvolge il criminale in una ragnatela e lo appende a un lampione in attesa della polizia. Un giorno lo zio Ben gliel'aveva detto Avere un grande potere è una grande responsabilità. L'uomo ragno non dimenticherà mai questo insegnamento. Fine